Bentornato al professor Marco Lanzetta Bertani, benvenuto anche al signor Stefano, una bellissima testimonianza perché oggi vogliamo ricordare il primo trapianto di mano che si è fatto. Lei professore faceva parte del team, vogliamo ricordare questa data, una data storica proprio nella storia degli interventi chirurgici, il 23 settembre del 1998, 25 anni fa, vi siete trovati a Lione, un team di 50 persone, avete fatto il primo trapianto di mano. Io vorrei ricordare anche il suo libro, professore, il libro che proprio racconta la storia di questo intervento storico, che ha dato un po' il via poi ai vari trapianti che ci sono stati poi in seguito, una mano più in là, ecco stiamo vedendo la copertina del libro. Io come ho detto prima, professore, insomma ha dato proprio una svolta negli interventi chirurgici per quanto guarda la trapianto di mano. Ci vuole raccontare l'emozione anche di quel giorno, che cosa è successo? Beh, quel giorno straordinario che ancora oggi è vivissimo, nonostante siano passati 25 anni, in effetti il lavoro di preparazione era iniziato parecchi anni prima, circa 4 anni prima. Io avevo cominciato a fare una meta-analisi, cioè uno studio di tutto quello che era disponibile nel momento sui trapianti non salvavita e occupandomi di chirurgia della mano è chiaro che il sogno da sempre a 2000 anni era quello di ridare una persona che non le aveva delle mani nuove. Quindi avevo accumulato parecchia esperienza e lavoravo anche sui modelli animali nel mio centro di Sydney in Australia, dove mi trovavo in quel momento. Ed è proprio lì che si è presentato il primo paziente. Un giorno è arrivato Clint Hallam, questo signore neozelandese che aveva perso una mano e mi ha chiesto semplicemente se si poteva fare un trapianto. Quindi da lì è nata tutta l'organizzazione che poi in 4 mesi ci ha portato prima a Londra, dove le cose non sono state possibili dal punto di vista proprio della legislazione, poi in Italia è lo stesso motivo per cui siamo poi trovati a Lione e in queste due settimane straordinarie, sono arrivati tutti i chirurghi. 12 ore di intervento, 50 persone, un team fatto di 50 persone. Sì, il team era molto grande perché volevamo essere tranquilli, era una cosa mai fatta nella storia, quindi c'era molta preoccupazione e molta anche voglia di andare bene. Quali sono i criteri? Molte cose sono cambiate in 25 anni, per fortuna la scienza e la ricerca è andata anche avanti, anche nella storia dei i trapianti. Allora, quali sono i criteri per decidere se è una persona? Poi racconteremo anche la bellissima storia di Stefano, che ha ricevuto il trapianto di mano, eseguito proprio da lei a Lino, quali sono i criteri? Un criterio lo vedete nella fotografia alle spalle, cioè ci deve essere una compatibilità anche estetica, soprattutto è chiaro quando il trapianto è di una mano sola. I criteri miei di 25 anni fa sono ancora i criteri attuali. Si parla di un paziente che ha perso una mano o preferibilmente due, perché in questo caso il trapianto porta veramente a un grandissimo miglioramento della qualità della vita. Ci deve essere una compatibilità con il donatore, evidente. Stiamo sempre ragionando sul livello di amputazione. Sicuramente i trapianti che danno i migliori risultati, e Stefano ne è un esempio clamoroso, sono i trapianti che avvengono più o meno a livello del polso o il terzo distale dell'avambraccio. E questo è semplicemente spiegabile perché è una mano che viene trapiantata al polso, diciamo il paziente ricevente ha tutti i muscoli presenti che poi motorizzeranno la mano. Mentre invece se saliamo mano a mano verso la spalla i muscoli vengono dal donatore ed è molto più difficile che si riattivino. Però negli anni alcuni gruppi, perché ormai il trapianto non è più confinato all'Italia, alla Francia, ma è un po' diffuso in tutto il mondo e quindi questo validifica anche una procedura. Adesso si fanno dei trapianti anche a livelli più alti, al gomito o addirittura alla spalla, i risultati sono discreti. Quindi c'è una voglia di continuare su questa strada, anche se magari come parleremo in 25 anni le alternative sono... Le alternative sono dietro l'angolo, anche per chi magari non ha questa compatibilità e magari non ha la possibilità di ricevere il trapianto di una mano. Adesso io vorrei venire da lei, signor Stefano, perché ci vuole raccontare un po' la sua storia, cosa le è successo e poi come ha incontrato anche il professor Lanzetta e come poi ha affrontato anche l'intervento di trapianto. Buongiorno. Buongiorno. Allora nel 2007 ho avuto un incidente di lavoro in una cartiera, io ero un tecnico di macchine da cartiere e quel giorno lì sono scivolato praticamente dentro questa macchina mettendo le mani avanti e se le è prese. Se le è prese 2007, di lì poi è cominciato il percorso con le protesi, avendo le protesi però c'era qualcosa che non... e quindi mi sono messo in moto perché avevo sentito... mi ricordavo che c'era questo discorso... La storia del trapianto. Mi sono messo in moto e ho chiesto un appuntamento al professor Lanzetta a Monza e circa un anno dopo, circa un anno dopo ho avuto questa possibilità di fare questa visita e lui mi disse che io ero idoneo per fare questo trapianto e gli si è messo in moto questa macchina. Parliamo delle sue paure, delle preoccupazioni di quel momento, no? Come ha affrontato anche tutta questa vicenda? Non penso che sia stato una storia facile, un passo facile. Come ha affrontato tutto questo Stefano? Il percorso è bello tosto, sì. È un percorso duro. Però ecco, da subito lui mi ha detto i pro e i contro. Diciamo, i pro sono di avere mani... la tua mano. Quasi tue, sì, diciamo così. I contro sono l'intervento che è lungo, tutta la vita dovrei prendere delle medicine che sono pesanti. Però niente, secondo me sono più i pro che i contro. E adesso? E la paura più grande è quella di non... che il mio corpo non reagisse in maniera differente. Ecco, avere rigetti continui, avere... questa sarebbe stata la paura più grande. Non poter avere le mani. Non poter avere le mani. Capiremo esattamente come è stato fatto, come è stato eseguito. L'intervento è proprio il nemico numero uno, professore. È proprio la paura del rigetto. È questo probabilmente che voi dovete mettere anche in conto quando ovviamente vi approcciate. è proprio perché i criteri sono tanti ed è anche giusto mettere, come diceva Stefano, i pro e i contro davanti ad un tipo di intervento. Parleremo di questo esattamente, di quali sono i rischi, ma di quali sono anche i grandi vantaggi di questi interventi subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate lì, non vi muovete. Torniamo subito. Eccoci, siamo tornati in diretta. Siamo in compagnia del professor Marco Lanzetta Bertani e ovviamente con la bellissima testimonianza del signor Stefano che ha ricevuto appunto il trapianto di mano, seguito dal professore il trapianto di mano su Stefano, questa storia straordinaria che stiamo raccontando. Adesso parliamo anche dell'aspetto, se c'è un aspetto negativo oppure quello che può inficiare magari un intervento del genere. C'è qualche aspetto che possiamo dire? Ormai dopo 25 anni e un centinaio di trapianti fatti, abbiamo visto chiaramente che la cosa più pericolosa è che il paziente non aderisca alla terapia farmacologica immunosuppressoria descritta. Perché vogliamo ricordare che non è tanto l'intervento ma è poi la terapia che dovrà seguire il paziente dopo un intervento del genere. Per tutta la vita e bisogna essere veramente molto molto precisi. Quindi i pazienti che poi perdono purtroppo la mano che è stata loro trapiantata essenzialmente la perdono perché si dimenticano di prendere la terapia, per loro non diventa più così importante fare gli esami, le scadenze preventivate e purtroppo questo lasciarsi andare. Come del resto in tutti i trapianti, anche quelli di organi interni, fa sì che ci siano delle percentuali di insuccesso. Lei mi diceva che in realtà la cosa che un po' più spaventa di tutti i trapianti, di tutte le storie di trapianti, sono la fase del rigetto. Invece sulla mano non è così. Non siamo preoccupati per niente, non eravamo neanche quel giorno di settembre del 98. Sapevamo solamente che la pelle è molto antigienica, cioè può portare una reazione di rigetto importante. Però sapevamo anche che l'avremmo visto subito, a differenza dagli organi interni. In effetti un rigetto nella mano, bisogna anche sfatare questa cosa. Cos'è un rigetto? Niente, Stefano si potrebbe svegliare una mattina con qualche puntino rosso, un piccolo ezzema, lo sa immediatamente, viene curato immediatamente. Il vantaggio è che si possono usare anche delle creme cortisoniche, niente di terribile. Il rigetto rientra. Quindi non è uno degli aspetti negativi che ci preoccupa, sono altri. Ci vuole raccontare, professore, quali sono anche le fasi di questo intervento? Perché come ci ricordava Stefano è stato un intervento anche lungo. Non è un intervento lungo, un po' complicato. La fase più importante è quella dell'attesa, purtroppo perché, come abbiamo detto prima, le mani devono essere compatibili anche da un punto di vista estetico. Quindi si aspetta un donatore anche dal punto di vista dell'aspetto. E questo può prendere parecchi mesi. L'attesa è molto lunga. Dopodiché un team va a recuperare le mani del donatore, di solito un donatore multiorgano, che magari ha deciso di donare anche cuore, fegato, pancreas, rene e così via. E poi inizia la fase intanto di preparazione, diciamo, degli arti che dovranno ricevere le mani. Nel caso di Stefano, contemporaneamente braccio destro e braccio sinistro. Vediamo qua un esempio che calza direi molto, perché è un po' questo Stefano, il livello del tuo trapianto. Un livello molto vicino al polso ed anche per questo, tra l'altro come vedete, la funzione è assolutamente normale, la sensibilità è normale. Quindi si inizia prima a collegare le ossa, chiaramente per dare una stabilità, quindi radio ulna. E poi si comincia con grande pazienza, piano piano, a riconnettere i tendini. E poi in ultimo l'arteria e le vene che riportano il sangue a circolare nella mano nuova. E quello è sicuramente il momento di grandissima emozione, quando vedi una mano bianca, che piano piano quest'onda rosa la riabita e arriva fino in fondo. Lì tu sai da microchirurgo che la cosa è andata bene. È un'emozione, immagino sia per il chirurgo sia per... Deve andare, il sangue deve circolare e deve entrare e deve uscire. In quel momento tu sai con certezza che la cosa è andata bene, tiri un sortilo di sollievo dopo 12, 13, 14 ore magari al microscopio. Una bella soddisfazione aver dato la possibilità ad un paziente di rinascere, perché poi per Stefano immagino sia stata davvero una bella rinascita. Però parliamo anche della fase della riabilitazione, perché una volta trapiantate le mani non finisce lì. Quanto dura una riabilitazione? Poi racconteremo anche di Stefano quanto è durata e continua. Immagino la riabilitazione non finisce mai. Quanto dura la riabilitazione? La diversità di un organo interno che viene trapiantato e funziona da subito. Pensiamo a un cuore che inizia a battere. Le mani no, le mani non hanno sensibilità e non si muovono per niente. Quindi dobbiamo recuperare nei mesi queste due cose importanti. Movimento e sensibilità. Diciamo che in genere i primi sei mesi sono i più importanti e dopo sei mesi possiamo avere già un'idea di quale sarà la funzione globale definitiva. Poi però, come diceva lei prima, è un processo che è sempre in corso e anche oggi Stefano attraverso gli esercizi che fa, la sua manualità, il lavoro, lo sport addirittura, ha sempre dei margini di miglioramento. Sia dal punto di vista sensitivo che dal punto di vista motorio. Questa è la grande sorpresa di questi trapianti. Cioè che un nervo che è stato silenzioso perché è stato tranciato magari per alcuni dei pazienti per vent'anni, poi quando viene ricollegato a un nervo di un'altra persona improvvisamente riparte. Lo attraversa, è come se fosse un albero con tutti i suoi rami e arriva in fondo ai rami grandi, poi ai rami piccoli, poi ai ramettini, cioè ai polpastrelli. Quindi c'è questa cosa straordinaria che ancora non abbiamo capito, ma i due nervi di due persone diverse si parlano, si capiscono e il nervo riparte e ricresce. E la vita rinasce. Esattamente. La vita è rinata anche per te Stefano, con questo trapianto di mano. Ci puoi raccontare anche le tue emozioni quando ti sei svegliato? Immagino che anche la riabilitazione non sia stata anche semplice e facile, no? Allora, ci puoi raccontare quei momenti? Sì, allora, quando mi sono svegliato dopo l'operazione, diciamo, quello non è stato proprio un momento bellissimo. Lì c'erano dei dolori forti, c'era… passata una settimana, diciamo, i dolori sono piano piano passati, sì. Dopo sono stato circa un mese all'ospedale… E le tue mani le sentivi? Iniziati a sentirla ancora no? No, no. La sensibilità, la prima sensibilità è cominciata a apparire dopo 6-7 mesi, al freddo e al caldo. Come ci diceva il professore, no? Sì. La prima sensibilità è il freddo e il caldo. Poi dopo una mattina, mi ricordo, mi lavavo la faccia e ho sentito l'acqua che collava nelle mani. E lì? E' emozionante, sì. Lì è veramente emozionante. Era una sensazione che avevo perso ormai da più di cinque anni. Lì è stato bellissimo. Sì. E poi dopo, piano piano, ha cominciato ad avvenire sempre di più, sempre di più il dolore, il liscio e ruvido, le sensazioni normali di una mano, ecco. Ecco. Che riguarda anche tua moglie, è vero? Sì. E' una sensazione bella che tu… Anche di passare la mano fra i capelli di mia moglie, sì. Quello sì, eh? Sì. Per cui sei rinato in quel momento. La riabilitazione, tu continui a farla. Sì. Allora, professore, oppure qualche cosa che non devi fare per, come dire, compromettere magari. O me sono passati anche…quanti anni sono passati dall'intervento vero e proprio? Eh, l'ho fatto nel 2012. Eh, insomma, sono passati 11 anni. Quindi sono passati 11 anni, sì. Questo è. Però, devo dire che è una cosa meravigliosa. Fantastico. Il futuro va avanti, anche…si stanno studiando anche, come dire, nuove protesi per chi non avrà la possibilità di ricevere magari un trapianto di mano, è vero. La ricerca sta andando avanti. Sì. Questo è molto cambiato da 25 anni fa, non c'era paragone. Eh, Stefano aveva bisogno un trapianto da cadavere. Oggi le cose sono completamente diverse, perché c'è una cosa purtroppo negativa che non è mai cambiata, che ha fatto sì che adesso, anch'io personalmente, sono molto più propenso a proporre delle protesi, le cosiddette protesi bioniche, perché le protesi di oggi hanno sensibilità e allora invece non l'avevano. Ma quello che non è cambiato purtroppo è che la ricerca farmaceutica non ha portato a prodotti, a farmaci nuovi. Quindi i farmaci di 25 anni fa sono ancora i farmaci che si prendono oggi e che Stefano prende tutte le mattine e questi farmaci hanno degli effetti collaterali importanti che purtroppo spesso si verificano. Quindi finché non troveremo delle formule farmacologiche per bloccare il rigetto della mano, ma non dare gli effetti collaterali che certe volte sono tremendi, non potremo procedere più speditamente verso una ricostruzione più anatomica. Ed è qui che si inseriscono le protesi. Tra l'altro tra le migliori al mondo sono in Italia, quindi non dobbiamo andare a cercare chissà dove. Siamo dei grandi, siete dei grandi, i medici che abbiamo sono eccezionali. Grazie, grazie a professor Marco Lanzetta, grazie Stefano, grazie per essere stato con noi, per averci portato questa bella testimonianza.